buongiorno gente allora quest'oggi siamo qui per fare un video un pochettino più tecnico praticamente andremo a parlare di un aspetto che ho montato sul mio camper di cui ho anche già fatto un video perché è un aspetto praticamente un pochettino possiamo mettere più smart un po' più tecnologico e ho fatto già un video dove faccio l'unboxing di questo prodotto e comunque lo avvio le prime impressioni il funzionamento di questo prodotto e vi lascio qui infatti qua sopra il video che ho già fatto il prodotto praticamente è il display con la retrocamera display che poi supporta anche carplay che supporta anche android auto e l'ho utilizzato parecchio soprattutto facendo diversi viaggi ho anche avuto modo di capire un po' meglio come funzionava e adesso infatti volevo farvi vedere come funziona come l'ho installato io definitivamente e anche come mi ha aiutato molto in diverse situazioni soprattutto ho trovato una soluzione che faceva al caso mio lo trovo comodo avere carplay anche in modalità wireless quindi senza il cavo questo è comodissimo perché nel momento in cui accendo il camper riesco ad avere subito carplay che si che si collega con il display e funziona in maniera veloce ottimale e soprattutto è molto efficiente andiamo quindi subito a vedere il funzionamento del prodotto allora prima di farvi vedere come l'ho montato definitivamente vi faccio vedere dei video che ho fatto al momento dell'installazione quindi quando stavo portando i cavi della retrocamera come ho installato la retrocamera come alla fine ho installato anche il monitor ho fatto anche delle piccole modifiche perché il monitor praticamente era fisso mentre invece adesso l'ho fatto in maniera che si possa girare comunque vi faccio vedere un po' tutto bene adesso vi mostrerò come andrò a montare la videocamera posteriore allora è detto sinceramente ne ho presa una vi ho già fatto vedere in un video andremo a montare direttamente qui sul mio camper la fotocamera posteriore adesso vi porto dietro perché l'ho messa provvisoria per vedere quale quale sarà poi la posizione corretta per andarla a posizionare quindi avere una ripresa diciamo ottimale del posteriore del camper questo praticamente è ciò che banalmente ho fatto o meglio l'ho messa su con del nastro adesivo e adesso vediamo cosa mi va vediamo cosa mi va a riprendere allora ho attaccato l'alimentazione adesso andiamo attaccare qui nei connettori non so se li vedete andiamo ad attaccare allora praticamente questa qui vi consiglio innanzitutto di collegare prima eventualmente la telecamera e poi collegare l'alimentazione così la legge sicuramente allora questa qui la fotocamera diciamo frontale quella che c'è qui davanti allo schermo cliccando qui andiamo a vedere quella posteriore allora io la inclinerei ancora un pochettino verso il basso questo qui praticamente il mio vetro aperto cioè la finestra posteriore che ho aperto l'ho fatto passare il cavo momentaneamente questo è il palo adesso vi faccio vedere da dietro com'è questa situazione che si vede praticamente quello che riprendeva questo vetro qui e questo questo palo qui io adesso lo voglio portare un pochettino più giù per far sì che mi riprenda questo paraurti qua e mi faccio vedere diciamo la distanza adesso vediamo un attimino anche se potrebbe andare bene anche così perché se ci monto il porta moto comunque sporge un pochettino di più potete anche lasciarla così questo è il buco che ho fatto dall'esterno dove ho fatto passare il cavo praticamente passa lì adesso dovrò fare infilare dentro anche questo qui che praticamente c'entra all'interno e poi l'ho fatto passare dentro adesso vediamo un attimo come incastrarlo tutto quanto vi faccio vedere dentro come invece ho risolto alla fine perché non volevo diciamo andare a usare il buco che si è fatto all'interno in corrispondenza di questo vi faccio vedere ecco qua da dentro praticamente c'è questo buco che alla fine però non ho utilizzato anche perché non pensavo uscisse tra virgolette così centrale adesso poi andrò a tappare con il polimax e tanto poi qui metto la carta da parati alla fine sono riuscito a far uscire il cavo praticamente da qua sopra allora alla fine ho dovuto allargare il buco come potete vedere perché se no questo questa parte più spessa e rigida anche se si staccava non riuscivo a passarla così almeno invece sono riuscito a passarla quindi adesso praticamente andrò a fissare la videocamera fuori a tappare quel buco con il polimax e poi procederò al passaggio del cavo in tutto il camper fino ad arrivare diciamo la parte frontale allora adesso attaccato il buco come potete vedere l'ho tappato anche da fuori adesso vi mostro praticamente ho applicato in questa maniera qua la piastra sotto aveva un adesivo e poi ci ho messo il polimax per andare a coprire tutto quanto bene ok adesso vi porto con me a vedere come ho installato monitor e come ho praticamente collegato il tutto quanto e come funziona soprattutto il funzionamento la cosa più importante prendo anche il telefono allora eccoci qua qui praticamente potete vedere come ho installato il monitor e vi faccio vedere qua così diciamo dispositivo di comando che adesso c'è il sole devo trovare un modo per abbassare praticamente qui potete vedere con questo tasto vado ad accendere vado ad accendere tutto quanto qui l'impianto quindi mi accende sia le porte usb e sia la presa accendisigari dove in questo momento c'è collegato il display perché questo è l'alimentatore del display l'ho lasciato ancora così con l'accendisigari non l'ho messo fisso perché mi veniva comodo quindi accendendo questo tasto praticamente vado ad accendere tutto quanto qui l'impianto io ho inserito anche questo tastino qua come potete vedere che sopra praticamente mi viene alimentato dalla batteria del motore e sotto mi viene alimentato dalla batteria dei servizi se lo sposto sotto quindi facendo cioè in centro e off e sotto invece batteria servizi quindi batteria motore sopra batteria servizi sotto modo tale che se volessi tenerlo acceso anche durante il giorno per ascoltare la musica perché questo mi alimenta anche l'autoradio quindi non solo questa questa parte qui ma mi alimenta anche l'autoradio allora andiamo a vedere il display ecco qua c'era troppo sole ho preferito tirare su l'oscurante allora accendo si è acceso e adesso vedrete che si accenderà anche qua welcome eccolo qui ok allora praticamente questa è la schermata principale adesso è facile che mi possa prendere anche il telefono direttamente e mi parte il collegamento con carplay perché lui si collega subito eccolo qua collegamento con carplay questo qui è carplay la schermata home di carplay oltretutto uno schermo veramente largo come potete vedere è un 10.26 mi sembra però è veramente spazioso quindi quando guidi soprattutto in un camper così grosso fa anche comodo avere uno schermo del genere oltretutto si vede molto bene la mappa si vede molto bene adesso può far vedere un pochettino ecco qua quindi veramente comodo anche per le dimensioni dello schermo oltretutto con questo tasto si spegne e si riaccende lo schermo quindi se uno ad esempio non vuole vedere di notte può tranquillamente spegnerlo e non dà fastidio neanche la luce comunque c'è anche la regolazione della luminosità andando a schiacciare qua viene fuori la casettina si schiaccia la casettina ecco qua e qui c'è la luminosità infatti ad esempio adesso il minimo perché è vuota poi man mano che si schiaccia si inizia a riempire fino a che non arriva alla luminosità massima che è questa qua adesso in questo momento va bene al minimo quindi screencast praticamente è per entrare nella modalità carplay ok poi logger invece è per entrare nella modalità retrocamera quindi qui si ha la camera frontale e qui si ha la retrocamera dove si vede infatti anche il mio porta moto ok quindi adesso torniamo alla home e io come lo utilizzo praticamente lo utilizzo sempre fisso con carplay quando viaggio e poi quando devo mettere la retromarcia siccome non l'ho ancora automatizzata cioè quando metto la retromarcia non mi entra in automatico perché comunque il cavo c'è per farlo basterebbe collegarlo al cavo penso della lampadina della retromarcia quindi quando si accende la lampadina della retromarcia viene mostrato in automatico la retrocamera io non l'ho fatto in manuale tra virgolette faccio così e mi guardo la mia elettrocamera c'è la possibilità anche di registrare mettendo una sd c'è anche il modulo gps che non ho ancora provato comunque vi dirò come funziona sinceramente lo proverò e poi niente praticamente qui c'è la possibilità di ascoltare anche la musica direttamente da qui c'è un lettore queste cose le avevo già un po' tutte viste c'è la possibilità di trasmettere in fm in frequenza radio tra questo e la radio impostando sulla radio la stessa frequenza del dispositivo si riesce a sentire la musica direttamente qua io cosa ho fatto invece molto semplicemente dal telefonino essendo che quest'autoradio qui al bluetooth collego con carplay il telefonino qui sopra e vedo la mappa e tutto quanto e poi praticamente vado a collegare il bluetooth alla radio e quindi la musica mi viene trasmessa come audio all'autoradio e invece sul monitor vedo carplay poi c'è la possibilità anche di andare a modificare quindi non vedere il carplay ma utilizzare questo come schermo diciamo condiviso del telefono quindi praticamente impostando in questa maniera qua io posso far sì che condividendo con il telefonino vado su condividi schermo zjr play clicco e vedo praticamente qui quello che vedo lo schermo condiviso del telefono e questo può essere utile ad esempio se uno si volesse vedere un video youtube se uno si volesse vedere un film anche o qualsiasi cosa mentre magari è fermo perché mentre viaggi diventa anche pericoloso quindi meglio non farlo però se uno lo volesse fare da fermo utilizzare questo come schermo lo si può fare condividendo in questa maniera lo schermo in questo modo io vedo tutto quello che mi succede su iPhone quindi se trasmette un film si vede esattamente qui un'altra modifica che ho effettuato praticamente è questa il fatto che lo schermo mi possa girare nella posizione che più preferisco questo praticamente come è avvenuto praticamente qui sotto ci sono due viti quindi adesso è avvitato non sto a svitarlo però prima di metterlo avvitarlo qui sopra c'erano queste due viti le ho svitate e qui all'interno c'erano tipo due fermi in plastica che andavano a tenere fermo lo schermo io praticamente l'ho brutalmente spezzati quei due fermetti lì e in questa maniera avvitandolo poi di nuovo sono riuscito a effettuare questa cosa qui quindi adesso praticamente mi gira ed è lo trovo molto comodo perché riesco a posizionarlo come voglio ad esempio se magari non lo uso posso anche metterlo così oppure se lo uso che lo devo guardare io mentre sto guidando lo posso direzionare perfettamente verso di me posso tenerlo al centro se magari devo guardare dobbiamo guardare sia io che che marica quindi lo trovo veramente comodo bene facciamo un caldo allucinante lì davanti con l'oscurante tirato su senza protezione dal calore però fu sopravvissuto quindi vi ho fatto vedere come funziona il display l'ho trovato veramente una delle cose più utili in assoluto adesso vi alleggo qui delle foto di come praticamente all'esterno la fotocamera in questo momento quindi come l'ho installata definitivamente dove punta l'avete già visto praticamente mi interessava anche vedere perché la cosa comoda di questo display a differenza delle retrocamere magari classiche ad esempio quelle delle macchine che ci sono già installate di serie quelle retrocamere lì funzionano solo attivando la retromarcia non è possibile vedere come è messo lo scooter dietro mentre viaggio quello a me interessa perché metti caso che magari cede una corda e metti caso che per qualsiasi motivo potrebbe spostarsi muoversi io mi fermo immediatamente quindi mentre viaggio tante volte cosa faccio vado a vedere con la retrocamera come messo lo scooter e questo lo trovo una cosa veramente utile mentre invece con le retrocamere di serie questo non è possibile quindi si può anche fare questa cosa qui oltretutto quando faccio manovra sia che lo faccio in retromarcia che la faccio con la prima inserita in qualsiasi momento comunque io posso sempre vedere dietro il mio camper e questa è una cosa che trovo veramente utile ho un ampio raggio comunque riesco a vedere anche anche la distanza che c'è tra il portamoto e qualsiasi altro oggetto quindi potrebbe essere un muretto potrebbe essere un un'altra macchina io riesco a quantificarla bene con questa retrocamera tante volte si vedono alcuni video che non solo sono reali ma potrebbe essere così che se non è settata bene la retrocamera ti sembra di essere vicinissimo un oggetto invece magari scendi e sei lontano di anche metri in questo caso non è mai successo cioè io quando vedo dalla retrocamera che sono molto vicino con il mio portamoto a qualsiasi altro oggetto effettivamente quando scendo ci sono molto vicino quindi questo lo trovo veramente veramente utile ma come ripeto l'utilità più grossa la trovo anche per visionare come sta il mio scooter mentre viaggio quindi mentre sono in autostrada mentre magari faccio delle strade di montagna delle strade un po tortuose per vedere come si comporta se non si muove se rimane lì stabile tutto quanto quindi detto questo posso consigliarvi veramente a mani alzate questo display perché lo trovo veramente un prodotto valido e soprattutto con un basso costo si riesce ad avere un ottimo prodotto con una buona resa e anche una buona qualità perché è notturna adesso vi faccio vedere magari alcuni video di come si vede notturna ecco come avete potuto vedere alla fine anche notturna ha una buona resa quindi posso consigliarlo veramente senza problemi vi invito quindi se non l'avete ancora fatto a iscrivervi al canale attivare la campanellina se il video vi è piaciuto di mettere un like perché poi non costa nulla per me può essere di supporto e poi ci rivedremo con altri video come questi e anche altri video di modifiche che farò al camper perché ne ho già fatte tante e ve le porterò su questo canale ma ho intenzione di farne ancora quindi seguitemi non rimarrete secondo me delusi perché qualche nozione posso ancora magari darle ciao a tutti